Match importantissimo per la Vis Spilimbergo che contro la Goriziana cercava due punti fondamentali per staccare le dirette inseguitrici nella corsa playoff partenza lanciatissima della squadra di coach Musiello 5 punti in fila per Passudetti 11 a 0 il break iniziale per la Vis Bomba di Schina che prova a rispondere per la Goriziana ma questa tripla di Bagnarol proprio sulla sirena di fine primo quarto fisso al punteggio sul 26 a 13 in favore di Spilimbergo ancora Schina con il passo e tiro numero 10 subisce anche il fallo tira benissimo però dalla lunga distanza la squadra di casa bomba per Paradiso tripla anche per Thomas Gaspardovic che prova addirittura ad allungare nel secondo parziale questo canestro di Grimaldi serve solo a tenere gli ospiti sul meno 12 punteggio 47 a 35 all'intervallo tripla da lontanissimo per Pardini poi però la Vis perde Verwe in attacco subisce la rimonta della Goriziana bomba di Giovanni che suona la carica poi Grimaldi si arresta da due punti solo rete per il numero 20 rimonta finalizzata da questo bellissimo assist di Laezza proprio per Grimaldi punteggio al termine del terzo quarto 61 a 64 per la Goriziana tripla in transizione per Schina prova ad allungare in maniera definitiva la squadra ospite due punti anche per Petrovcic ultimo sussulto guidato da De Simon bomba in transizione anche per il numero 7 ex Fagagna ma ci pensa ancora Schina a chiudere il match con questo canestro nel cuore dell'area vince la Goriziana 71 a 83 il punteggio finale 24 punti per Schina 22 per Grimaldi grazie a tutti Grazie a tutti.